Se in un sistema la maggioranza controlla gli organi di garanzia, esso prende il nome di regime. Premier Renzi accetti di migliorare la riforma e poi si concentri sui problemi veri del Paese, che non possono più essere elusi dal suo governo. Parlo delle tasse, del lavoro che manca, soprattutto per i giovani che continuano a scappare all'esterno sfiduciati. Parlo degli esodati e dei pensionati che non arrivano a fine mese. Sto concludendo, Presidente. Parlo dell'emergenza e migrazione e della necessaria difesa dei confini.